bentornati ragazzi scusate per per il presente episodio si è finito senza neanche un saluto ma perché come probabilmente era venuto nello schermo ho finito la memoria e quindi mi aveva interrotto la registrazione come vedete in quella partita che poi ho startato ho perso infatti c'ho una sconfitta ora doveva aver ripulito la memoria e quindi ripartiamo il matto è sempre lo stesso e quindi due pezzo più avanti forse dai secone pulisci ottimo ma non voglio problemi no ma lui me li one shot no però gira no va a girare di più vabbè consiglio a royale ok ora dai la togliamo in questa maniera un po brusca te non ci mi devi toccare mesi per di del fuoco ed è peccato che un corpo non l'ha dato o lei una pulisci 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 ok siamo in vantaggio noi ma veramente di poco ok quel corpo però non immaginavo datemi una mano e anche utilizzato perché diamine valchira tanca ottimo ok buono ragazzi buono buono davvero perché il vantaggio si fa più sentire ok ok regola dobbiamo fare in questa maniera un po così e quello è morto ottimo ripartiamo al conto di attacco no ma ha tolto tutto non fa meglio però sto vivo aspetta che facciamo così è il doppiacere magico però sono dolori eh guarda lì da lì ragazzi guarda lì mamma mia ragazzi cosa ha fatto quel doppiacere magico ora noi si fa così questa non per gufare ma la doveva vincere perché insomma lui non mi ha fatto manco un danno e noi invece li stiamo facendo ora lui è il gran cavaliere no cosa mi fa? consegnare royale? o si è arreso oppure non lo so un corpo mini pecca? ottimo se l'ha arreso ok vi ripeto mi dispiace per prima però ad andare così quindi comunque di prima lo caricherò magari li carico insieme perché insomma se no non ha un senso logico e a sto punto là lo finiamo tanto come se avessimo ristartato buona fortuna buona fortuna grazie se sei contento non mi avrebbe preso però ok non avrei usato le frecce così domatrice è già più intrigante darà un colpo ma basta ok il vantaggio di qua lo voglio tenere quindi facciamo così ripuliamo tutto no ottimo allora lui i cosi che ha usati mi sembra facciamo scossa qui e l'umore il colpo? no dai però non mi può togliere tutto così ora vuole sapere però cosa c'hai bimbo mio eh vabbè ma c'ha tutto ragazzi ma vedi che crash reale è un infame che ha una certa o ti mette contro le carte che te non riesci a battere e crash reale ragazzi è anche questo eh eh ora però rido io vieni noi si torna a pacca nervoso dai mini pecca oh pacca nervoso e si ride fino a domani quello lo zappi veloce uccidilo niente perché ragazzi cioè c'ha tutte le carte per contrastarmi ora non per dire però lo vedete? cioè non ha senso però giocare con gente che ragazzi mi ammazza forte però se mi metti il mazzo ad alto per contrastarmi sei un infame fatelo dire cioè che divertimento guardami a parte che sta sfera infocata so potrei risparmiare però ora li tolgo tutti quei cosi mannaggetta dai dai ragazzi dai arciere non li stare nella linea del boia però ma io no però lo fanno apposta e le mie truppe a perde cioè perché è una cosa incredibile ragazzi cioè c'ha una è ha dell'incredibile sta cosa dai toglietevi toglieteli sta cosa su su ragazzi su e questa la perdiamo ma la perdiamo si perché ve l'ho detto quando il gioco si mette di mezzo lo puoi fermare aspetta aspetta che gli spiritelli di fuoco gli spiritelli di fuoco ci sono dobbiamo rifare la torre a fare e ci riuscirà ragazzi e ci riuscirà niente da fare niente da fare ferma qui ferma la paraonda ferma la baracca vai ragazzi non aveva senso non aveva senso c'è tre cercate per counterarmi vabbè spero almeno altre due parti di fare perché sennò c'è quell'altro è durato tipo 14 minuti questo invece dura malapena 10 spara acerbio tecnico quando vuoi sparare mi fai di un piacere e vabbè vabbè pensa anche alla torre del re che è 30 km avanti dai oh però buono questa freccia dell'acere che toglie tutto buono 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 mi è piaciuta meplase così e questo cosa vuol dire scusate cosa vuol dire questo ok arco x infame per te solo le lame si dai però con uno di vita oh ma non si distrugge dai l'arco x infame sto qui facciamo così dai valchina gira ok una volta girata dai non ci lamentiamo anche io mamma mia che sbaglio ho fatto un corpo facciamo così e li togliamo tutto vai ole vai meno male gli spiritelli che mi counter per ogni cosa sto qui però mi ha rotto facciamo così la tattica di un'arco x è una grossa infamata sapete sapete ora io c'ho l'esercito lui lascia rinfuocata non l'ha vuole sapere come mi ferma tutto sto po' di roba sono proprio curioso curioso credibilmente ci è riuscito non so neanche come ragazzi ma lasciamo perdere oh però questo te l'ho distrutto guarda godo guarda manco fosse giovedì come se fosse sabato togli vesti che mi stanno già rompendo no no ragazzi eh si però il boia mi prende tutto niente anche me la guf neanche me la guf anche me la guf dai piccato perché questa via era 300 259 di vita ragazzi cioè questa via è stata sfiga eh perché altro non era e niente siamo a 10 minuti non la continua abbiamo fatto 5 vittorie comunque la metà ha costumato io comunque ve lo volevo consigliare peccato perché qui avremo sbloccato come mi sembra il bole leggendario almeno lì mi piaceva arrivarci però il gioco infame e funziona così tra 3 giorni e 6 ci porteremo porteremo anche questo torneo vediamo che ricompense ci sono buono e magico dai buono ricompense e niente qui siamo vicini ah siccome questo video dura invece troppo po' se mai ci facciamo un'ultima partita a guardie spaventose difendete cioè io credo che cosa si che si questo qui sia quello che c'eravamo da ieri che spuono le guardie a caso e ti usi il mazzo che ci ritieni nella tua collezione esatto però ragazzi non mi può me cercare con un livello 10 io vi vorrei portare anche le mie battaglie del clan no ma non ha senso perché cioè mi match sempre con gente di livello 10 11 è ovvio che poi io perdo ragazzi cioè ma sono diventato giù però la colonazione a sinistra non l'avevo manco vista sinceramente cioè non ci avevo fatto caso più che altro comunque ci facciamo una partita qui magari si focusassero sulla persona giusta è in vantaggio lui ma non per molto invece si perché gli sono sparato le guardie ragazzi nel momento giusto ormai c'è però sfiga bestia cioè gli sono sparato le guardie nel momento giusto quanta sfiga potrò mai avere io nella mia vita eh vabbè togli l'immoschettere no il moschettere non li muore il moschettere non li muore maianne ragazzi che rabbia vabbè doppio schetto gigante secondo me non ha avuto senso e ovviamente si focusa su il bestia dove non si dovrebbe focussare oh lì sponere guarda quando io pusho ma ragazzi ma che sfiga eh oh voglio sapere però cosa fai dai eh la c'è più tecnico proprio vabbè ok però la torre è fatta meno male c'è lo strigone meno male c'è lo strigone ragazzi guarda ah godo eh ragazzi la torre alla sinistra era fatta eh nel senso insieme a togliamo questi e la miseria girati girati veni vi veni vi veni vi veni vi vai togli no no io di perdere ragazzi non voglio ah ho vinto oddio me ne ho manco accorto ok chiusa è anche stata fortuna e si finisce con una vittoria va bene ragazzi io direi che alla fine sono usciti due episodi oggi perché trappuno mi ha chiuso ma vabbè qui si è fatto 5 vittori e 3 sconfitte qui 4-5 minuti va bene e ci vediamo domani con l'apertura di questo baure chissà che legenda ci riserverà io spero il gran cavaliere come vedete è troppo forte in difesa il gran cavaliere non c'è niente da dire comunque io vi ringrazio per la visione lasciate like se vi è piaciuto il video commentate per farci sapere la vostra iscrivetevi al canale e noi ci vediamo a domani alla prossima ciao ragazzi